Uè buonasera, ma una curiosità, quant'anni avete voi? 81. Ma a voi vi piace Amadeus, lo conoscete? È un grande presentatore, è un grande. Quindi lo vedete chi sa chi è il suo nuovo programma? No, non sono capace con il telecomando. Ah non sapete, mannaggia. State guardando il nuovo programma chi sa chi è? No. E perché? Perché non riesco a trovarlo sul telecomando. Buonasera, eccoci qua. Ma di dove siete? Sono da Catania. Vi posso fare una domanda? Vi piace Amadeus? Sì. Vi piace il suo nuovo programma, chi sa chi è? Sì lo so, non mi piace, però non lo posso prendere con il telecomando. Ah non sapete dove si... che canale premere? Sì esatto. Ah ok. Scusi signora, ma lei piace Amadeus? Certo che mi piace Amadeus. Il nuovo programma? Chi sa chi è? Sì, vorrei anche poterlo vedere, ma si conoscai e non lo trovo. Ciao a tutti da Amadeus. Allora, volevo ringraziare intanto le signore e i signori che hanno detto delle cose carine nei video che avete visto e che mi dicono che non riescono a vedere il canale 9. Allora, piccolo tutorial. Dunque, io sono per esempio in cucina, voglio vedere chissà chi è? È molto semplice. Basta premere il canale 9 delle digitali terrestre, come ho fatto io. Adesso alzo il volume e naturalmente vedo il 9 con chissà chi è e tutta la programmazione. Se per caso non riuscite a vederlo è perché va risintonizzato. Dice, ma se io guardo la televisione sulla tv satellitare? E ora vi spiego. E per vedere chissà chi è sui canali satellitari è molto semplice. Con il telecomando basta digitare 149 149 e si vede appunto chissà chi è. Eccolo. C'è grande fiducia.